gentili signore e signori buonasera queste immagini vi giungono da Gersenkirchen dal Parkstadion dove sono state programmate tre partite lo svolgimento di una di queste, quella a cui assisteremo, è Olanda-Argentina insieme con Olanda-Argentina su questo campo giocheranno poi Olanda-Germania-Est e Argentina-Germania-Est l'Olanda è diventata la favorita numero uno di questi mondiali stampa sportiva, tecnici non fanno che tesserne le lodi dopo la prima parte del torneo Cruyff e compagni hanno espresso il loro miglior calcio tecnico e spettacolare ed è quanto di meglio si sia visto fino ad ora la squadra gioca quasi a memoria su schemi di grande efficienza ogni giocatore dimostra grande mobilità ha ottime dosi di tenuta, pochissimi gli errori a parte quelli di mira nei tiri a rete abbiamo quindi una squadra ben preparata atleticamente e tecnicamente con un ritmo eccezionale ti ricordiamo che Olanda-Argentina mentre vedete inquadrato l'arbitro lo sostese Davisson ti ricordiamo che a Olanda-Argentina si sono incontrati